Io sono Laura Colnaghi Calissoni, sono presidente e amministratore del gruppo Carvico. Noi siamo sostenitori di questo magnifico museo di Bergamo che si chiama GAME, che proprio negli ultimi due mesi ha inaugurato una bellissima mostra che si chiama Nullo è perduto ed è una mostra che è dedicata proprio alla materia e a studi fatti sulla materia in tutte le sue espressioni. L'opera che abbiamo voluto prestare al museo è un'opera di un artista americano che si chiama Robert Smithson che è stato proprio l'antesignano della cosiddetta land art, un'opera che potete ammirare a Bergamo. È un'espressione di un qualcosa che si è trasformato nel corso del tempo, che sono dei coralli petrificati e che lui ha presentato con una struttura di specchi che fanno sì che un elemento che in realtà sarebbe triangolare abbia invece l'apparvenza di essere conico.